L'hanno seguita per noi Veronica Gatto e Giuseppe De Masi. Signor Presidente della Repubblica, gentili autorità e illustri ospiti, sono lieto di partecipare all'inaugurazione di Non Uccidere, installazione che vuole celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione italiana e dei suoi valori fondanti. Si tratta di un'opera d'arte magnifica realizzata da due campioni dell'arte e dell'architettura, Emilio Esgrò e Mario Botta. Dal loro comune lavoro è nata un'installazione monumentale formata da una semisfera di 21 arcate in legno. Cedro del Libano, contenente 11 coppie di tavole in pietra del Sinai dalle quali emerge il solo quinto comandamento biblico. Non Uccidere. Nelle tragiche ore dei tanti conflitti che abbiamo alle nostre porte, dall'Ucraina al Medio Oriente, non Uccidere è un principio che la legge mosaica alla nostra Costituzione diventa non solo l'ovvio ripudio della guerra, ma anche un diritto all'autodifesa e un dovere alla lotta contro ogni forma di terrorismo, aggressione, violenza e persecuzione.